buongiorno a tutti qui un mini sandbox creato da me per illustrarvi brevemente come utilizzare go spaces allora per prima in go spaces avete la vostra libreria eccolo qua si chiama biblioteca ok questa è la prima cosa all'interno di questa biblioteca noi troviamo personaggi animali dialoghi e tutto quanto ok le funzioni un po più particolari sono i moduli perché questi vi permettono veramente di costruire poi troviamo la videocamera che in alcuni ambienti si trova già dall'inizio nel merge cube lo dobbiamo trascinare dentro ci permette a fare alcune cose cioè di guidare l'esploratore quando si va a riprodurre il go spaces nella visione della della realtà e quindi per esempio si può disegnare un percorso oppure un obiettivo da dove il visualizzatore deve iniziare il proprio percorso poi tramite il coding si può anche cambiare la visione di un'angolazione ad un'altra e quindi immettendo anche più videocamera sto più avanti poi in go spaces possiamo caricare immagini modelli 3d video qui possiamo visualizzare tutti i file che abbiamo caricati l'ultimo file va sempre avanti e poi possiamo caricare audio vedete qui le estensioni e possiamo direttamente registrare all'interno dell'ambiente si creerà un file audio che possiamo impostare tramite il coding coding abbiamo la possibilità di script abbiamo i go blocks in questo caso ho già impostato vi suggerisco se volete per esempio avete bisogno di trovare come fare l'audio mi da vi direziona già sul blocco da poter utilizzare o qui per esempio video quindi potete cercare anche vedere quale funzioni avete a disposizione in ogni caso all'inizio vi suggerisco un po di esplorare tutti i blocchi bene quindi velocissimamente abbiamo visto anche il codi allora qui quindi la biblioteca quello che manca ancora è l'ambiente eccolo qua allora l'ambiente la possiamo modificare proviamo per esempio vedete che adesso il mio ambiente è cambiato qui abbiamo ancora altri tipi di ambienti ok io ritorno al mio ambiente iniziale perché è più tranquillo per una prima illustrazione possiamo aggiungere degli effetti dei filtri possiamo mettere per esempio immagini di sfondo l'idea potrebbe essere anche di inserire una mappa anche di una piantina e poter pensare di iniziare a costruire a partire di una piantina e poi possiamo aggiungere il suono di sottofondo allora poi qui sul pannello vi ho detto che ci sono due tipi di inspector o editor questo il primo appare con un click il secondo appare con due click poi abbiamo i moduli come vi ho detto prima nella biblioteca i moduli allora nei moduli abbiamo delle forme che possono essere utilizzate per quando vogliamo creare delle sezioni per esempio all'interno di una casa possiamo anche caricare delle immagini per esempio un tapeto abbiamo delle scritte eccoci qua possiamo volendo ingrandire il nostro testo ridimensionarlo ok e possiamo dopo se andiamo un doppio clic aspetta ridimensionare anche il nostro pannello ok attenzione che qui abbiamo in realtà due elementi per poter ridimensionare anche questi ecco ci vuole un pochino di attenzione possiamo anche eliminare il nostro pannello oppure duplicare come qualsiasi altra cosa che andiamo a costruire qui abbiamo il cubo attenzione questi quattro icone in realtà non sono quattro perché sulla seconda abbiamo una doppia funzione guardate bene un click un doppio clic quindi possiamo ridimensionare il nostro cubo di anche cambiare la forma e con l'altro possiamo alzarlo muoverlo a destra a sinistra o spingere avanti indietro due click materiale materiale possiamo avere un singolo materiale quindi per esempio un un unico colore adesso è soltanto rosso però posso con due click materiale anche fare che ogni ogni parte abbia una struttura diversa e quindi eccoci qua e possiamo anche la trama cambiarlo anche di colore possiamo personalizzare il colore anche e se vogliamo possiamo aggiungere il nostro colore alla tavola questo potrebbe essere utile quando vogliamo ripetere dei materiali con gli stessi colori quindi adesso vedete che ogni lato abbia un colore un materiale una trama diversa vi allego a questo tutorial il sandbox che vi suggerisco di esplorare nel vostro go spaces nella vostra classe ve lo metto quindi questo vi permette di poter un po imparare le diverse funzioni con il dependency con il dependency Grazie a tutti.